Bramo una città in cui ognuno possa vendere senza danno, con buon prezzo e qualità senza affanno. Sogno un consorzio fatto di mercanti solidali fra loro, di cui tutti si possano fidare e non intenti a vendere argento per oro. Questo è il mio desiderio. Nessun garzone a cui dire io milagno. Al nome di Dio e del guadagno. Franceschino ma che bella giornata che è oggi. Senti ma ti va di andare a conoscere tutti i negozianti del consorzio Prato C'è per andare a conoscerli e anche a fargli delle domande sulle loro attività. Va bene? Allora partiamo. Franceschino basta stare lì sui fogli a scrivere, a riscrivere, a ricopiare. Esiste la macchina fotocopiatrice. Allora ti ho portato qui a Cartoland. Buongiorno. Buongiorno. Claudia, buongiorno. Allora Franceschino ancora non ha capito perché lui come moderno non ha niente a che fare. Che esiste la macchina fotocopiatrice. Dobbiamo fare delle fotocopie. Certo, certo. E anche a colori. Da che vogliamo essere moderni. Cattola, anzi ma hanno anche le fotocopie. Fotocopie, fax, tutto ciò che riguarda la tecnologia. La tecnologia riferita alle cose della cartoleria qui c'è tutto. Allora poi dimmi un pochino, per questo Natale che sta per arrivare. Sì, allora ci sono già arrivati diversi giochi da ragazzi, da bambini. Anche questi qui per esempio che è un bowling di legno. Quindi può essere un gioco da tavola da passare con amici o parenti durante queste feste. e se no abbiamo dei puzzle, abbiamo Monopoli, Scarabeo, sì. E tutti i giochini. Tutti i giochini, sì. Specialmente anche dei giochi per i bambini che quest'anno sono andati al... che hanno fatto la prima elementare che possano riguardare la scuola. Sapientino. Sapientino, sì. Ah, per Sapientino. Ma io non sapevo nulla. Ecco, e uno lo hai detto a Franceschino per la faccia? Gli lo vogliamo regalare. Uno zainetto? Non lo sai. Regaliamogli una borsa. Una borsa. Una borsa. Una borsa bella rossa. Bella rossa, sì. Certo, certo. Queste sono anche resistenti all'acqua. E poi abbiamo questi block notice, anche queste cartelline qui. ecco, e qui può scrivere, qui mette addirittura la penna e quindi è già tutto pronto, tutto pronto. Certo, certo. Se tu ce l'hai a nessuno. Poi per i bambini ci sono questi regalini da fare già belli e pronti. Sì. E poi abbiamo degli zaini, delle borse. Le palline di Natale. Le palline di Natale. E abbiamo un po' d'accessori, insomma, biglietti. E quando ne vedremo anche accessori? Allora, abbiamo questo, molto bellino, che fa anche da cofanetto. E quindi su una scrivania sta molto bene. Poi abbiamo queste palline di vetro, tutte colorate, che cambiano la luce. E allora vi aspettiamo, perché qui il Natale è in arrivo a Cattolandia. Qui piazza San Marco, a Prato, e vive il consorzio Prato. Prato c'è, Prato c'è. Fotocopie, a colori, non a colori, zaini. Giochi. Giochi, gadget, biglietti. Da auguri, di tutto, di tutto. A Cattolandia c'è duniosa, come direbbe la Cattolandia. Grazie a tutti.